Aprite, aprite, che la faccio più? Io ho acquistato. Ma che fai? Questo è per le donne. E perché questo per chi è? Vedi se viene qualcuno che devo fare una telefonata. Pronto? Casa Rossi? No, avete sbagliato. E perché avete risposto? Una telefonata inutile. Non funziona, rispondo un'altra nuova. No, ci provo io. Prova tu, provo. Vai presto. Pronto a casa Bolognesi? Oh sì? Noi siamo romani, se venimo lì per farmi un culo così. Funziona. Buongiorno, desidero. Che me fa vedere le mutande? Come? Dai, fammi vedere le mutande. Ma cosa dici? Di quando avvi. Ma che hai capito? Io ho lo stacco all'elastico per farci la mazza fiuta. Farmacia, aeroporto, stazione, aeroporto. Pronto? Ciampino? Sì. Mette dal culo. Babà, ma come scrivono qua? Ma che c'entra? Quello è per quelli che non sanno leggere, no? Tu sai leggere, vieni che lì. Casa la terza, casa la terza. Pronto? Pronto? Casa la terza? Sì. Metti la quarta e vattene a fanculo. Pronto? Qui le poste. C'è un pacco per lei. Lo deve venire a ritirare subito. Che c'è roba che va male. E che cos'è? Uova. E da dove vengono? Da recculo da gallina, signora. C'è un pacco per lei.